Vittoria doveva essere, vittoria è stata al menti 2-0 per la USA Bunder 17 allenata da mister Michele Sacco, siamo in compagnia di uno dei migliori in campo, Giovanni Gaudino Ciao Giovanni, finalmente ritrovi la maglia da titolare, torni in campo la prestazione Sì, stavo ritornando anche all'allenamento e si è notato, si è visto in campo oggi Ci hai provato, più di un'occasione hai avuto, però sei stato sfortunato Quando non volevo entrare non entro Era importante però vincere questo match, l'abbiamo fatto intorno a 2-0, senza storia, un po' di nervosismo magari nel finale, però era importante tenere il passo, continuare a lottare, continuare a vincere e continuare a restare là in testa la classifica Sì, anche per far capire a chi sta, l'idro di noi, che non è finita fin quando non vediamo che la USA abbia stato sopra tutte a fine campionato e ci andremo a giocare i play-off nel migliore dei modi Non ne mancano tante, però bisogna continuare a sudare, già dal prossimo match Sì, già contro il Teramo, andremo lì con la sista testa di oggi e cerchiamo di portare il risultato a casa Grazie Giovanni Ciao Ciro Grazie ad una solita esperienza, la Edil Lima SRL Costruzioni si è sempre distinta nella costruzione di fabbricati civili e commerciali di pregio col tempo ha ampliato la propria attività, trasformandosi in una ditta di costruzioni immobiliari specializzandosi nella realizzazione di edifici residenziali e fabbricati industriali La Edil Lima SRL Costruzioni, acquisendo sempre maggiori competenze, ha conquistato il suo punto di forza diventando leader nel settore, con risultati eccezionali per estetica e qualità lavori accurati e soprattutto rispetto dei tempi di consegna Edil Lima SRL Costruzioni di Nicola Imperiale, da oltre 40 anni al servizio della gente a Gragnano, in via Castellammare 149, telefono 081 871 5584 oppure 334 26 49 108 Da anni la nostra famiglia pone attenzione e cura in ogni gesto Ingredienti di prima scelta, esperienza e fantasia, ma soprattutto passione Pizzeria da Dino a Castellammare di Stabia, dove la pizza sposa una tradizione che dura da generazioni Un gusto di ottima qualità, pizza, frittura, primi piatti, aperti anche a pranzo, basta provarlo Pizzeria da Dino, via Giuseppe Cosenza 263 Si effettua anche i consegni a domicilio, telefono 081 185 86 067 oppure 333 32 13 647 Pizzzeria da Dino, via Giuseppe Cosenza 2660 Una pizza deliziosa, rosticceria di prima qualità, gusto e tanta passione, nel regalare gioie per il tuo palato. Non puoi non provare le nostre specialità, non puoi non venire da noi. Melis Pizza lo trovi in Viale Europa 82 a Castellammare di Stato. Flyline Sport, veste lo sport e il tempo libero. Da noi puoi trovare tutto quello che ti serve, le marche più prestigiose, novità di grido, tutto quello che ti occorre per soddisfare i tuoi desideri. Adidas, Nike, Kappa, Puma, Macron e tanti altri. Il nostro marchio ha garanzia dei tuoi acquisti. Lo sport è passione, la passione è lo sport e noi lo sappiamo bene. Vieni a trovarci in Viale Europa 51G a Castellammare di Stabia, Napoli.